Notte movimentata a Chiesa Nuova per una fuga di gas, chiuso al traffico un tratto di Via del Campaccio. Da lunedì i test sierologici per il personale scolastico, esami gratuiti e non obbligatori al via le prenotazioni. Il tridu del crocifisso miracoloso di Santa Caterina dei Ricci al tempo del covid, fedeli alle messe ma in processione solo le monache. Prosa, musica e danza per la nuova stagione del Teatro Borsi si parte ad ottobre con la platea ridotta. Buongiorno e benvenuti al telegiornale del giorno di TV Prato. In primo piano la cronaca per la fuga di gas registrata nella notte in Via del Campaccio a Chiesa Nuova. Le auto in sosta sono state rimosse per consentire le operazioni di intervento dei vigili del fuoco e dei tecnici di Toscana Energie che sono durate diverse ore. Resta chiuso un tratto di strada. Vediamo. Notte movimentata a Chiesa Nuova per una fuga di gas da una tubazione della rete cittadina collegata alla fognatura tra Via Po e Via del Campaccio. A dare l'allarme intorno alle 23 di ieri sono stati residenti della zona a causa dell'odore di gas che si percepiva nell'aria. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Montemurlo assieme al personale di Toscana Energie. La ricerca della perdita è stata particolarmente difficoltosa e l'intervento è durato diverse ore. I tecnici hanno lavorato per tutta la notte e soltanto intorno alle 5.30 di questa mattina è stato individuato in Via del Campaccio il punto in cui si è verificata la perdita di gas. Il tratto di strada in questione è stato chiuso al traffico per precauzione da parte della Polizia Municipale intervenuta fin da subito anche per consentire la rimozione di alcune auto in sosta. All'interno della fognatura è stata rilevata la presenza di sacche di gas e per questo le operazioni si sono protratte ulteriormente. I vigili del fuoco hanno concluso l'intervento di assistenza intorno alle 10.00. La situazione è sotto controllo ma il tratto di strada di Via del Campaccio che va da Via dei Gobbi a Via Po rimarrà chiuso al traffico fino alla conclusione dei lavori. E ancora cronaca in mezz'ora ha provocato due incidenti stradali e dopo qualche giorno all'esito degli esami alcolemici si è capito il perché. L'automobilista, una donna di 31 anni, aveva bevuto troppo. La concentrazione di alcol nel sangue è infatti risultata oltre tre volte il limite consentito dalla legge. La donna ha così subito il ritiro della patente ed è stata denunciata per guida in stato di ebrezza con l'aggravante di aver provocato incidenti. I fatti risalgono alla scorsa settimana. Il primo sinistro si è verificato in Viale Allende dove la 31enne al volante della Mini ha tamponato un motociclista, fortunatamente rimasto in colume, per poi allontanarsi fino a giungere in via Pistoiese. Qui la Mini ha sbandato nuovamente e ha urtato in modo più violento contro una BMW in sosta. La donna è stata lì raggiunta dagli agenti della Polizia Municipale e in ospedale successivamente poi scattato l'alcol test che ha portato alla denuncia dell'automobilista. Nella giornata di ieri si è registrato un nuovo caso positivo al coronavirus a Prato. Si tratta di un ragazzo di 19 anni che ha accusato lievi sintomi nella cui cerchia di amici ci sono giovani che erano stati nei giorni scorsi in Versilia dove è in crescita il numero di casi associati alla Movida. Anche i dati complessivi dei nuovi positivi nella nostra regione sono in aumento, 40 quelli registrati dall'ultimo bollettino di ieri, con un'età media di circa 38 anni, nessun decesso per fortuna. Intanto dal lunedì prossimo inizieranno i test sierologici per il personale scolastico in vista della riapertura delle scuole, esami che saranno gratuiti ma non obbligatori. Da oggi via le prenotazioni. Vediamo tutte le informazioni. L'epidemia di Covid continua a colpire in Toscana. Sono 40 nuovi casi positivi individuati in otto province diverse, secondo l'ultimo rapporto diffuso dalla regione, e portano il totale dei contagiati dall'inizio dell'emergenza a 10.925. Su 40 nuovi casi, 11 sono contatti stretti di persone già contagiate, 29 sono invece emersi attraverso lo screening sierologico. Screening che a partire dal 20 agosto sarà notevolmente implementato in Toscana dai test che saranno effettuati gratuitamente su base volontaria sul personale docente e non docente in vista dell'inizio del nuovo anno scolastico a settembre. Come indicato dal Ministero della Salute, lo screening è rivolto al personale che opera nei nidi, nelle scuole di infanzia, primarie e secondarie, pubbliche, statali e non statali, paritarie e private, negli istituti di istruzione e formazione professionale. Per sottoporsi al test è necessario rivolgersi in via prioritaria al proprio medico di famiglia oppure, se questo non è possibile, a specifici ambulatori delle aziende sanitarie. Dal 24 agosto il test sarà prenotabile anche attraverso il sito rientrascuola.sanita.toscana.it. Il risultato sarà reso noto in 10 minuti e qualora fosse positivo, la persona dovrà contattare il numero verde regionale 800 55 6060 per prenotare il tampone nasofaringe e accertare così l'eventuale sussistenza dell'infezione al virus SARS-CoV-2. Un 27enne è stato arrestato per essersi scagliato contro gli agenti delle volanti intervenuti la notte scorsa presso una sala giochi VLT in piazza Mercatale, dove era stato segnalato un furto con destrezza ai danni di un cittadino. Il furto, 200 euro circa in contanti, sarebbe stato commesso da un uomo di origine nordafricana che all'arrivo della polizia si era già dileguato. Durante gli accertamenti gli agenti hanno notato il 27enne che stava simulando una telefonata al cellulare nel tentativo di uscire dal locale. Invitato a fermarsi, il giovane ha poi aggredito i poliziotti. Portato in questura si è scagliato di nuovo contro gli agenti, ferendone tre, con lesioni giudicate poi guaribili dai tre ai cinque giorni. Il 27enne, cittadino marocchino irregolare in Italia, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e la persona attualmente sottoposto alla misura dell'obbligo di dimora presso il comune di Montecatini, è stato arrestato per resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento dei beni dello Stato. Cambiamo argomento al via sabato il triduo del crocifisso miracoloso di Santa Caterina De Ricci. Quest'anno, a causa della disposizione anti-Covid alle processioni all'interno del monastero di via San Vincenzo, prenderanno parte soltanto le monache. I fedeli potranno però partecipare alle messe. La tradizione resta emuntata anche nell'anno segnato dal Covid. Le monache porteranno per tre volte in processione il crocifisso miracoloso di Santa Caterina De Ricci. Il rito è secolare, si compie nel monastero di San Vincenzo Ferreri dal 1542, quando il 24 agosto il Cristo di legno, pendente dalla croce che si trovava nella celletta della Santa di Prato, si animò e allungò le braccia, tendendole verso Caterina. Fu proprio il crocifisso a chiedere di far memoria di quell'abbraccio miracoloso attraverso tre processioni scandite dalla preghiera per la conversione dei peccatori. Da allora ogni anno le Domenicane organizzano un triduo di preghiera dal 22 al 24 agosto. Per via delle restrizioni in atto sarà soltanto la nostra comunità insieme al sacerdote ufficiante e al rettore della Basilica di San Vincenzo a compiere la processione, spiega la priora delle Domenicane, Suor Anna Ferro. Ma i fedeli potranno essere presenti partecipando alla celebrazione eucaristica che si tiene nel coro, secondo le norme previste. Ogni anno infatti molti pratesi rinnovano questa sentita tradizione insieme alle monache. Si comincia sabato 22 agosto con la messa celebrata da padre Matteo Pedrini alle 8 preceduta dall'accanto delle Lodi alle 7.30. Domenica Lodi alle 8 e messa alle 8.30 celebrata da Don Serafino Romeo. Lunedì invece, giorno della ricorrenza, messa alle 8 preseduta dal vescovo Giovanni Nerbini preceduta dal canto delle Lodi. Ogni giorno recita del vespro con la comunità monastica alle 18.45, la domenica alle 18.30. Come detto, durante il triduo seguirà la processione del crocifisso miracoloso all'interno del monastero. Le celebrazioni eucaristiche si tengono nel coro monastico. Ed ora la pagina della cultura e degli spettacoli. sarà una stagione ricca di novità, coronavirus, permettendo quella del Teatro Borsi, che è pronto a ripartire con un calendario diviso in più fasi. La prima avrà inizio ad ottobre con una platea ridotta e ne abbiamo parlato con il direttore artistico del Teatro di Via San Fabiano, Daniele Grigio. Il Covid non ferma la voglia di fare teatro, anche se con le limitazioni imposte dalle disposizioni anticontagio. Che stagione sarà la prossima per il Borsi? Il calendario è diviso in due sezioni ben precise. Una prima sezione che è a ottobre e novembre, ogni sabato e domenica, che si chiama Gli Amici del Borsi per il Borsi. Sono una serie di artisti che voi conoscete per lo più pratesi, che hanno deciso di esibirsi per due repliche, il sabato sera e la domenica pomeriggio, a favore del Borsi. La sala sarà ridotta a 40 posti, con la sanificazione, le mascherine, insomma tutto quello che sarà il protocollo che avremo a ottobre. La stagione vera e propria comincerà invece a dicembre? Sì, abbiamo spostata a dicembre, sempre che speriamo di aver visto giusto. La prima novità è che non ci sono più spettacoli ogni settimana, ma ci sono spettacoli ogni due settimane e per una replica in più. E quindi abbiamo tre repliche, il venerdì sera, il sabato sera e la domenica pomeriggio. Sono 12 spettacoli di teatro. La stagione si chiama Sussurri e Risa, cioè cose serie con cose divertenti. Per tutti c'è Alessandro Riccio e Gaia Nanni con la meccanica dell'amore che io credo sarà una cosa molto gradita da tutti voi. E non mancano le novità quest'anno, soprattutto per il periodo natalizio? Sì, abbiamo due novità. Per il periodo natalizio la rassegna ai concerti di Natale, sono concerti di musica da camera con la direzione artistica di Giovanni Inesi, con la quale abbiamo creato la rassegna Ritorno alla Vita, al Chiostro del Duomo che sta andando benissimo. L'altra novità è una rassegna che si chiamerà Borsi Danza e lo dice la parola stessa, sono quattro spettacoli da febbraio, marzo, aprile e maggio. L'altra conferma importante è il Borsi Bimbi Bim Bumbà. Novità che riguardano non soltanto il palcoscenico ma anche la comunicazione a cominciare da un nuovo sito del Teatro Borsi. Sì, abbiamo costruito un sito completamente nuovo e soprattutto un sito completamente interattivo. Quest'anno dal nostro sito teatroborsi.it si potranno fare un sacco di cose, si potrà comprare i biglietti, preannotarli, si potrà inviare i dati per avere la tessera, quindi non serve più che venite qua a darci i dati eccetera. Sono tutte le cose che abbiamo fatto dal 2017 ad oggi. Ci sono tutte le puntate del Borsino, la trasmissione che anche l'anno prossimo andrà in onda grazie a TV Prato e ci saranno due novità alla conduzione, due nuovi conduttori, però per adesso non svelo nulla. E adesso è il momento delle previsioni meteorologiche, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del Consorzio Lamma. Queste sono le ultime immagini che ci giungono dal satellite. Possiamo vedere come il Mediterraneo sia sostanzialmente sgombro da nubi, qualche nube soltanto sull'arco alpino. Questo per la presenza di un vasto anticiclone che garantirà condizioni di tempo stabile per alcune giornate. Passiamo subito a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi all'insegna di un cielo generalmente sereno o al più poco nuvoloso in Appennino, venti deboli da quadranti occidentali, temperature in aumento rispetto a ieri con punte massime fino a 34 gradi sulle pianure dell'interno. La tendenza per la giornata di domani e venerdì è per ancora condizioni di cielo generalmente sereno, venti deboli, mari quasi calmi o al più poco mossi. Da segnalare un ulteriore aumento delle temperature che sono previste come punte massime fino a 35-37 gradi nelle pianure dell'interno. Questa è una situazione che si confermerà anche poi per la giornata di sabato, mentre per domenica è previsto un contenuto calo delle temperature e qualche locale temporale pomeridiano sulle zone appenniniche. Con questo dall'amma è tutto. Prepariamoci dunque al ritorno del grande caldo. L'informazione di TV Prato con il telegiornale del giorno si conclude qui e ritornerà questa sera con il telegiornale della sera come sempre alle 20.30. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Grazie.